Continua la stagione di prosa ma continua la stagione dei concerti, infatti il mese di gennaio è un mese ricco di appuntamenti. Fermo restando che speriamo il prima possibile di poter riportare la stagione al Teatro Comunale di Teramo. Questo come tutti sanno non dipende da noi, speriamo che a breve ci siano delle notizie positive in tal senso. Noi per il momento comunque rimaniamo al Palasport di San Nicolò a Tordino. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori da parte dei gestori del Palasport stesso. Tutti quei lavori che erano stati richiesti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo. Quindi nei prossimi 19, 20 e 21 di gennaio porteremo la locandiera con Laura Morante, quello spettacolo che purtroppo non si è potuto più tenere fine novembre. Lo repiegheremo in questi giorni e poi a fine mese 30, 31 e primo febbraio ci sarà lo spettacolo con Stefano Accorsi. Parallelamente ci saranno altri due concerti sempre nel mese di gennaio. Quello con Luca Pincini e Gilda Buttà che sono i due musicisti di riferimento di Egno Morricone e poi ci sarà l'altro concerto con Mario Brunello che è uno dei più grandi musicisti, violoncellisti al mondo. Sappiamo che vi state impegnando con l'Università per offrire degli spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole medie. Ci saranno importanti concerti, un progetto molto importante che si terrà proprio nell'aula magna dell'Università degli Studi di Teramo la seconda metà del mese di gennaio.